ciao a tutti oggi prepareremo lo sgroppino all'anguria il tempo di preparazione della ricetta è di circa tre minuti gli ingredienti sono succo di anguria congelato zucchero e limoncello i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta iniziamo a mettere nel boccale lo zucchero e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10 teniamo sul fondo lo zucchero mettere nel boccale il succo di anguria congelato consigliamo di uscirlo un paio di minuti prima di iniziare la ricetta aggiungiamo il limoncello e andiamo ad avalgamare il tutto per un minuto a velocità 7 il nostro sgroppino è pronto andiamo a riempire dei bicchieri sgroppino all'anguria grazie e alla prossima ricetta